Ciao a tutti cari amici, bentrovati in un nuovo interattivo. Questa sera andiamo a fare una canalizzazione del pensiero, andiamo a vedere questa persona come vi pensa, cosa sente, quali sono le sue emozioni, cosa prova in generale. Quindi non è detto che sia riferito a voi in un particolar modo, ma potrebbe essere anche un pensiero in generale. Quindi proprio andiamo all'interno della mente di questa persona e andiamo a vedere un po' qual è la situazione. Allora, per chi è la prima volta che vede questi video, spiego un attimo come funzionano. Quindi sono degli interattivi, va scelta la variante in base all'istinto, una delle due, o entrambe, se sentite una forte attrazione per entrambe le varianti. Ricordo che sono validi dal momento in cui vengono visti e che sono costituiti da energie generali, quindi vanno presi sempre con la dovuta cautela perché naturalmente non sono consulti privati. E quindi ci sono tante situazioni, tante persone che guardano, come potete immaginare, e non può risuonare tutto con tutti quanti. C'è chi ascolta la variante e sente combaciare tutto, chi invece magari deve solo estrapolare un piccolo messaggio che deve in qualche modo risvegliare un pensiero, un'azione o anche un ragionamento. Allora, vi lascio qualche secondo, quindi pensate alla persona e scegliete una delle due varianti. Io metto in disparte la variante 2 e andiamo subito a vedere la variante 1. Metto qui la stellina. Allora, variante 1. Iniziamo questa canalizzazione del pensiero, questa volta ho usato l'Ellenormann, come potete vedere. E vediamo un attimino questa persona, cosa prova, cosa sente, insomma. Al momento mi sento la persona più fortunata del mondo. Ho accolto un'occasione al volo, un'occasione che mi ha dato serenità, felicità nella vita. È stato qualcosa di improvviso, che neppure mi aspettavo che arrivasse. Proprio come cogliere un quadrifoglio. Sai che ti porta fortuna, sai che ti porta gioia, serenità, amore, anche nel lavoro. Qualsiasi opportunità sia stata per me importante, io so di averla accolta. Ed è un'opportunità che mi ha reso in qualche modo felice, sereno, appagato. Che ha fatto fluire le mie emozioni. Calmare la tempesta, se ci fosse stato qualche momento burascoso nella mia vita, delle liti. Ha portato proprio una sorta di benessere, di serenità, di appagamento generale. Ma tutto questo improvvisamente è finito. È arrivato come una spada. Dall'alto, in senso verticale, verso il basso. Ha tagliato tutto quello che c'era. E le cose sono cambiate. Anche in modo drastico, in modo estremamente doloroso. E per questo mi sento ferito, mi sento affranto. Sono molto confuso. Al momento potrebbero esserci dei litigi nella mia vita. Potrebbero esserci delle persone con le quali non vado d'accordo. Anche qualcuno che magari sta parlando male di me, sta spettegolando. E io non so come agire. Perché è come se non vedessi più chiaro. Non è più nulla, è trasparente. Potrei avere problemi economici, sentimentali, affettivi. E la mia strada, improvvisamente, che era così delineata, così chiara, così serena, nel verde, nella pacificità della mia quotidianità, e improvvisamente sono comporse queste montagne, queste nubi, che mi hanno creato degli ostacoli o me li stanno creando. E io non so ancora come sorvolare, come oltrepassare queste nubi. Il problema è che forse dovrei fare un cambiamento importante o anche un grande viaggio. E sarà difficile. Il mare è in tempesta e le nuvole non si placano. Non c'è ombra di schiarita. E io navigo a vista, in mezzo alla tormenta. E tutto mi sembra difficile, mi sembra complicato. E non riesco mai a vedere l'arrivo, non riesco mai a vedere l'obiettivo, l'arrivo. So che devo fare un taglio, improvviso. Devo cambiare rotta. Devo cambiare condizione. Non posso più restare in mezzo a questa tormenta. Non posso più restare in mezzo all'indecisione, ai dubbi, alle perplessità. Così non vivo. Così creo scompenso a me stesso e a chi sta attorno a me, alla mia vita. Ho bisogno di cambiare, di tagliare. Di tagliare. Di anche tagliare i riammi secchi. Allontanare magari persone che non fanno più parte della mia vita, che non mi fanno star bene. Per poi ritrovare il sereno. Ma al momento non lo posso fare. Mi sento frustrato. Mi sento costretta nella condizione in cui sono. Io devo mantenere questa situazione. Devo restare. Devo Assegondare i miei obblighi. Devo rimanere. Devo fare qualcosa che non mi piace, ma sono costretta. E al momento sto lì E faccio quello che devo fare, per forza. Variante 1 Io spero che l'assesa vi sia piaciuta. Spero soprattutto che abbia risuonato con voi. Quindi scrivetemi nei commenti la vostra situazione. Che sono anche curiosa. E passo adesso alla variante numero 2. Allora, variante 2. Metto qui la stellina. No, la metto di qua. Mi sono dimenticata di una cosa. Volevo farmi un regalo. Oggi adesso vado a vedere, sempre dalla variante 1. Il segno zodiacale. Allora, estrago qualche segno zodiacale della persona a cui state pensando. Quindi vediamo se combacia con la vostra situazione. Ricordo di prenderli sempre con le pinze, perché è molto più importante la canalizzazione rispetto ai segni. In quanto potrebbero far parte anche dell'ascendente o del tema natale. Quindi non è detto che siano i segni principali. Quindi vediamo dei segni per la variante gialla. Allora, qua abbiamo toro. Il segno di terra. Vediamo un altro segno per la variante 1. Qua abbiamo scorpione. Pesci. Il segno per la variante 1. Qua c'è predominanza di segni di fuoco. Qua potrebbe esserci leone, ariete, sagittario. E vergine, toro e capricorno. Toro viene riconfermato due volte. Quindi qui potrebbero esserci in generale. Nello specifico abbiamo toro, scorpione, pesci. E abbiamo anche dei segni di fuoco. Quindi leone, sagittario. E ariete. E dei segni di terra. Il toro che è il segno di terra viene riconfermato. Abbiamo vergine e anche capricorno. Allora, va bene. Adesso posso veramente passare alla variante 2. Allora, eccoci qui. La mettiamo qui. Variante della stellina rosa. Ben trovati. Allora, inizio la canalizzazione. Vi ricordo sempre di pensare intensamente alla persona. E poi, spero di ricordarvi, andiamo a vedere i segni zodiacali. Facciamo la sorpresa di questa sera. Allora, tu sei la persona più importante della mia vita. Sei la donna che desidero. La donna con la quale vorrei condividere la mia vita. Le mie esperienze. La donna che mi sta assistendo, che mi ha assistito. La persona che mi dà esempio nella vita. Nelle esperienze. Sono molto confusa. Sono disorientato. È come se fossi un uccello in volo. Improvvisamente Entro all'interno delle nuvole e non vedo più niente. Non capisco più dove sto andando, cosa sto facendo. Non vedo se vado a sbattere. Non vedo più nemmeno cosa voglio. Cosa sono, soprattutto. Quello che percepisco è che per uscire da questa situazione devo fare un taglio, devo fare un cambiamento. Devo cambiare direzione. Perché non posso continuare a vagare nelle nuvole. Non posso continuare a spostarmi a caso senza avere direzione, senza sapere dove devo andare. Qui devo fare un cambiamento di direzione. Al momento le onde sono veramente difficili da superare. Mi sento in mezzo alla tormenta. Ma io cerco di affrontarla con coraggio. Di spostarmi con coraggio. C'è un cambiamento importante che devo fare. Soprattutto su me stesso. Devo prendere una decisione, una scelta. Molto importante, che sarà fondamentale nella mia vita. E ancora una volta non so dove andare, ma so solo che devo farla. Sono costretto a farla. Non so se scegliere una donna, se scegliere la mia parte femminile, la mia dolcezza, la mia serenità, la mia tranquillità, il mio essere dolce, affettuoso. Oppure se scegliere la mia parte maschile. Se essere uomo o se essere donna. Se sentirmi maschio, potente, maschio alfa, maschio che domina, maschio che decide. O donna. Devo dare un taglio a questa indecisione. Devo tagliare e ricominciare da zero. Ripartire con una nuova vita, con una nuova situazione, una nuova dinamica. Di me stesso, di come io mi vedo, del mio sesso. Di come interpreto la mia vita e di come gli altri mi vedono. Variante due. Questa è particolare, questa variante davvero. Spero vi sia piaciuta. Qui mi soffermo un attimo su questa perché qua c'è una persona che potrebbe avere delle perplessità sul proprio orientamento sessuale. Forse voi non lo sapete, però qui c'è una persona che non sa se vuole essere una donna o se vuole essere un uomo. Ed è in confusione. Non è detto che sia giovane, potrebbe avere anche una certa età. Però questo è il messaggio, diciamo, principale di questa canalizzazione. È una cosa un attimo delicata per cui volevo un attimo chiarire per coloro che stanno ascoltando giustamente la variante. Perché non è detto che stiate magari pensando a una persona a livello sentimentale. Potrebbe essere una madre, un padre, un fratello, una sorella che chiede per un parente, uno zio, per la cugina. Per cui per il datore di lavoro, per il collega, per la migliore amica. Quindi non bisogna, io non metto dei paletti se sentimentale o altro. Io vado solo a vedere cosa c'è, cosa la persona vi vuole dire. Quindi questa insomma era un po' delicata, molto personale e anche particolare. Andiamo però a vedere il disegno zodiacali per la variante rosa. Il disegno zodiacali per coloro che hanno scelto la variante rosa. Allora qua abbiamo il toro di nuovo, come nella prima variante. Capricorno Di segno per coloro che hanno scelto la variante rosa. Vediamo se escono. Sagittario Prendiamo 5 carte Vediamo un altro segno per coloro che hanno scelto la variante rosa. Vergine Qua abbiamo tutti i segni di terra Andiamo a prendere un'altra carta Leone Quindi qua abbiamo predominanza di fuoco e di terra. Quindi toro Capricorno Vergine Sagittario Leone Ricordo che i segni vanno presi sempre molto con le pinze Perché potrebbero essere nel segno principale Ma anche nell'ascendente O anche semplicemente nel tema natale Quindi bisogna avere delle conoscenze anche a livello di astrologia E capire anche i segni che ci sono all'interno delle case Va bene Io con questo chiudo il video Vi ringrazio Vi invito a mettere mi piace Iscrivervi al canale Attivate la campanellina così vi arrivano tutti i video Che carico Le notifiche Ricordo che sono attivi sul canale gli abbonamenti Per cui sotto in descrizione trovate un link con il video Dove potete andare a vedere le specifiche Per quanto riguarda i prezzi E i benefici per coloro che si vogliono iscrivere Gli abbonamenti sono riferiti alle persone A tutti coloro che sono interessati ad apprendere lo studio delle carte Quindi dei tarocchi, delle sibille e delle norman Io vi ringrazio Vi invito a scrivere sotto Ditemi se le stese risuonano con voi Raccontatemi la vostra storia Che io vi leggo tutti sempre E vi invito sempre a seguire E sappiate che ho intenzione di pubblicare Tutte le sere una canalizzazione del pensiero Perché vedo che vi piacciono molto E vengono apprezzate E con questo io vi abbraccio E vi aspetto con i prossimi interattivi Vi faccio